Impasto cotto a vapore, multicereali, raga, andiamo al forno. E qui serve proprio per dare alla superficie di questa pizza la giusta conca di pizza, sentite? E guardate qui dentro, sapore di grano, tagliamola a quattro spicchi, bufala, campana ad hop, ventresca di tonno rosso pescato nel Salernitano, datterini gialli semi dry, anche questi nel Salernitano, alici di cetara, maionese alla soia e alga marina fritta. Al morso ti faccio fare un tuffo a mare.